Dipendenti pubblici che si recavano durante l'orario lavorativo presso il negozio di frutta e verdura del coniuge e che andava regolarmente a giocare presso un centro di scommesse sportive della zona. Succede a Roma nel Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, dove sono stati beccati dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma nove dipendenti furbetti, tutti sospesi dall'esercizio dei pubblici uffici per la durata di un anno. Le indagini hanno consentito di accertare come sistematicamente, dopo aver marcato la presenza presso l'apposito rilevatore con lettura badge, i nove dipendenti di età compresa tra i 43 e i 65 anni si allontanassero dal posto di lavoro oppure timbrassero per conto di altri colleghi che arrivavano più tardi rispetto all'orario previsto o che addirittura non si presentavano al lavoro. Avviata nel febbraio 2015, l'attività di indagine, convenzionalmente denominata Museum, è stata svolta attraverso servizi di osservazione, pedinamento e controllo con contestuale esecuzione di videoriprese e l'ausilio di videocamere poste in punti nevralgici del museo, consentendo di accertare un notevole numero di truffe perpetrate dagli impiegati indagati. Per i nove le accuse sono a vario titolo quella di falsità materiale e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, truffa e danni dello Stato, false attestazioni e certificazioni. Grazie. 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 Grazie.